Bene, dovremmo essere in diretta, cari amici, e abbiamo disturbato probabilmente il cornuto con la pereghiera San Michele Arcangelo e la corona del rosario in mano, sappiamo benissimo i disturbi che diamo, anzi, visto e considerato che dobbiamo lottare, iniziamo invece, spostiamo un attimino il palinsesto, invece di partire dalla X che è praticamente il discorso che dovrà fare poi Angela, partiamo invece da cosa dice Maria Regina della Pace. Allora, Maria Regina della Pace ci invita a pregare il Santo Rosario, la potenza del Santo Rosario, la forza del Santo Rosario, abbiamo visto in questi giorni, per la festa del 13 di ottobre, la settimana, il giorno prima che c'è stata quella recita del Santo Rosario sulla Polonia, quanto popolo che vive la preghiera che Giovanni Paolo II amava, diletta, e che la Madonna spiega, adesso vi racconterò un attimino, ecco, mia moglie ci ha messo storti, allora adesso abbiate pazienza, ma stasera è veramente un passaggio... No, al contrario amore, al contrario dall'altra parte... Al contrario da dove? Abbiate pazienza, stasera è così, perché sia... Ok... No, sotto sopra, vai, non sappiamo bene qual è la situazione... Amore... Guarda un attimo come siamo... No... Allora, intanto... Non ho... Oh... Ce siamo. Ci siamo, che siamo a pezzettini adesso, stanno diventati piccoli piccoli... Ok... No, non capisco, abbiate pazienza ma stiamo semplicemente ruotando un cavalletto e qua si continua a girare. Noi ci vediamo dritti. Ragazzi, abbiate pietà di noi ma stiamo cercando di metterci dritti. Allora, forse ce la facciamo perché dovete capire che stiamo in diretta e ci stiamo guardando dal computer. Ecco, forse adesso tra un attimo ci riadrizziamo e abbiate un attimo di pietà. No, no, adesso ci riadrizziamo. Ecco, non capiamo come dobbiamo metterci. No, noi siamo fermi perché continua a girare. Allora, adesso vediamo un attimo e se no... Eh, ragazzi ci guardate solo. No, ma qualcuno stasera è arrabbiato. No, ma adesso dovrebbe molto, stiamo dando fastidio anche perché veramente ragazzi... No, noi ci vediamo dritti nel cellulare. Aspetta, la puntata di stasera era proprio sulla potenza del rosario, sulla potenza della preghiera. Aspetta, adesso vediamo un attimo, dovremo... Ci scrivete come ci vedete, ci vedete dritti o sorti? Siete su scherzi a parte, lo Spirito Santo. Adesso amici... Come ci vedete perché... Ecco, ci siamo riusciti. Ci siamo... Fammi vedere un attimo che... Guarda il video... Ah, ma siete messi rotondi. Ragazzi, abbiate pietà, girate il video, ecco, no. Adesso siete capovolti. Allora, chiedimi, stringimi per favore. Cosa stringo? Sì, stringi il coso. Ah, ok. No, perché adesso non ci capiamo nemmeno io e mio marito, scusate. Stringi un attimino, abbiate pazienza. Ah, ok. Così, scusa. Tengilo dritto. Vai. Ok. Aspetta perché c'è il carico. Perché stasera... Sì, tra un attimo arriviamo, ragazzi. Dovete capire... Solo un attimo di pazienza. C'è già successo di tutto. L'iPad si è fermato, stiamo andando con un cellulare, staremo vicini vicini. Allora, adesso salutiamo un attimo gli amici perché dunque vogliamo salutare intanto Ramona Colti che ci dice che siamo messi rotondi, Irene Stagliano, Davide Fontana, Mauro Rottunno e Ramona Coltis, no? Vabbè, siete belli ugualmente, grazie Irene. Bene, adesso siete capovolti, lascia che fa lei. Siete su scherzi a parte, è lo spirito santo, siete forti. Che è successo? Si sono capovolti gli emisferi. Così, con Cettina. Buonasera, mi dispiace ma vedo solo i commenti, lo schermo è completamente buio, non vedo, non sento niente. Tutto ok. Adesso vedete. Adesso ok, tutto ok, mi si gira la testa, fermi. Intendevo buio e non mi fa vedere i volti. Bella lavanda. Ecco, mettetevi. Ci siamo. Azzeccati, Nicola Pasqualato, Beatrice Corda. Ragazzi, è stata una sudata. E vi dico perché, voi non... Cioè, io ve lo spiego perché proprio questa puntata è proprio sulla potenza del Santo Rosario. Il demonio non vuole questa preghiera. Non la vuole. No, ma poi mi hanno pregato San Michele Arcangelo. E oltre quello, anche proprio perché la puntata, oltre la, giustamente, il discorso da programma, era, l'ho impostato proprio sulla recita del Rosario. Infatti, la Madonna di Medjugorje, il primo messaggio che ha dato, pensate, risale al 13 agosto del 1981. Per cui, pensate che il 25 giugno dell'81 sono iniziate le apparizioni. E il 13 di agosto ha dato il primo messaggio sul Santo Rosario. Cosa ha detto la Gospa? Pregate il Rosario tutti i giorni. Pregate insieme. Dopo due ore, riappare, ringraziando con il consetto saluto, grazie, perché avete risposto alla mia chiamata. E questo è stato il primo messaggio che la Madonna ha dato sul Santo Rosario. Dopodiché, ne ha dato un altro il 25 di agosto del 1997. Cari figli, Dio mi concede questo tempo, quale dono per voi, affinché possa istruirvi e condurvi sulla strada della salvezza. Ora, cari figli, non comprendete questa grazia, ma presto verrà il momento in cui rimpiangerete tali messaggi. Per questo, figlioli, vivete tutte le parole che vi ho donato in questo periodo di grazia. E rinnovate la preghiera fino a quando questa non diventerà gioia per voi. Invito in modo particolare quanti si sono consacrati al mio cuore immacolato ad essere esempio per gli altri. Invito tutti, sacerdoti, religiosi e religiose, a recitare il Santo Rosario. E ad insegnare agli altri a pregare. Figlioli, il Rosario mi è particolarmente caro. Per mezzo del Rosario apritemi il vostro cuore ed io posso aiutarvi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Allora, siccome la puntata era proprio impostata sulla potenza del Rosario, abbiamo visto la corona umana ai confini della Polonia. Abbiamo visto il grande risultato della giornata del 13 di ottobre che per iniziativa nostra con IASM, che è il presidente Maurizio Baldacci, dalla quale io e Angela siamo cofondatori di questa associazione, che è accompagnatore italiana Santuari Mariani, che abbiamo costituito a Međugorje quattro anni fa, è venuta questa idea, l'abbiamo lanciata e praticamente abbiamo coinvolto un'Italia intera. Si è addirittura, il Cardinale Angelo Comastri ha fatto la processione con la Madonna di Fatima in via dell'indipendenza per andare poi in San Pietro a fare la recita del Santo Rosario. E tantissime parrocchie, tantissimi amici a Trieste, il Vescovo di Trieste ha fatto la consacrazione dal Santuario di Montegrisa, una bellissima preghiera, con la recita del Santo Rosario. E abbiamo visto proprio ieri, altro ieri, una professoressa che ha detto semplicemente che un'Ave Maria detta col cuore ha scatenato un putiferio nel mondo, nelle tenebre. Ha recitato questa Ave Maria in una classe mentre faceva una lezione per unirsi alla preghiera del XIII. Siccome lei faceva la lezione, non potendo recitare il Santo Rosario in comunione con tutti noi italiani, fedeli, cattolici, cristiani, chiusi nelle chiese e fuori delle chiese che recitavano il Santo Rosario, lei ha pensato bene di recitarla e farla recitare agli alunni, dicendo che chi non voleva recitarla semplicemente per rispetto si metteva in piedi. E veramente si è scatenato l'inferno su questa professoressa. Allora noi le siamo molto solidali. Non si sente bene e non si vede niente? No, io penso di sì, dateci un ha fatto bene, ciao Angelo, non si sente bene, grazie, sempre uniti nella preghiera. Allora vediamo un attimino magari di avvicinare, di alzare un po' più la voce, se mi date un ritorno per cortesia, ecco, forse adesso si sentirà molto meglio. Vediamo se si sente meglio, bene. Comunque quello che dicevi del 13 ottobre, l'idea è vera e partita da noi. E ha fatto successo in un'università. Scusa. Servi strumenti inutili, la maggior bologna di Dio. Assolutamente. Quando noi abbiamo fatto tutto quello che dobbiamo fare, alla fine siamo solo servi inutili. Ma per dire che, adesso si sente meglio, per dire cosa ragazzi? Che in questo momento particolare storico dobbiamo attivarci e moltiplicare, essere moltiplicatori di azione, moltiplicatori di eventi. Ad esempio, adesso, come sapete, o ve lo informo io, tanto per dirvi, sabato c'è stata Suora Emanuele qua, che l'abbiamo invitata da Meggiugori. Abbiamo avuto questa grande grazia che è venuta a Torino. Con padre Lorenzo. Per la prima volta in Torino mai stata, per cui sapete che Torino è una delle città sataniche e massoniche, a pieno titolo, fa parte del triangolo maledetto. Per cui, quando noi facciamo una di queste preghiere per iniziativa, si scatena veramente l'inferno. E grazie a Dio in questo istituto, che è l'Istituto Maria Mazzarello a Torino, è una scuola di bambini, primarie, secondarie, fino alle superiori, dove insegnano e danno anche l'impronta del cristianesimo, del cattolicesimo. C'è una bella chiesa, i ragazzi pregano. E proprio lì Suora Emanuele, con padre Lorenzo di Monte Calvo, ha fatto un pomeriggio fantastico. Più di 700-800 persone sedute per terra, per cui una grande pentecoste. Questo per dire cosa ancora? Poi lascio la parola ad Angela, ma volevo dare l'importanza del Santo Rosario, proprio per dire un attimino delle piccole cose. San Pio da Pietralcina, e con la corona in mano che i fadeli e i confratelli vedevano sempre il padre Pio, e la sua vita era una continua preghiera. Padre Pio dice, questo è il mio testamento e la mia eredità. Amate e fate amare la Madonna, recitate e fate recitare il Santo Rosario. Ecco infine cosa ci racconta un frate, accompagnatore di Padre Pio. Una sera, mentre ero in cella a vegliare il padre perché ammalato, questi mi chiese nel suo tipico dialetto napoletano, «Waglio, prendimi l'arma che ho nel saio». Il frate frugò in vano nelle tasche del saio e, non avendo trovato alcun'arma, meravigliato rispose, «Padre, qui non c'è nessun'arma, c'è solo la corona del rosario». Allora Padre Pio gli disse, «E quale arma ti credevi volessi? Più potente della corona del rosario non vi è nessun'arma». Capite ragazzi la potenza che abbiamo in mano? La potenza del Santo Rosario. Perché? Il Santo Rosario, come diceva Giovanni Paolo II, «Vorrei riporre a tutte le famiglie cristiane la preghiera del rosario, perché possano gustare la bellezza di fermarsi insieme a meditare con Maria i misteri gioiosi, dolorosi e gloriosi, ora anche i misteri della luce, della nostra redenzione e così santificare momenti lieti e quelli difficili della vita quotidiana. Pregare insieme aiuta la famiglia ad essere più unita, serena e fedele al Vangelo». Questo è San Giovanni Paolo II, le riflessioni. E ci sono molte altre, molte altre, diciamo, iniziative. Infatti, da Lourdes, la Madonna di Lourdes, a Bernadette, appariva durante il rosario. Ai pastorelli di Fatima, adesso abbiamo appena festeggiato il centenario, i pastorelli di Fatima, quando loro recitavano il Santo Rosario, appariva sul leccio. E a Meggiugorie la Madonna, Fatima si è presentata come la Madonna del Rosario. A Meggiugorie la Madonna, quello che dice, pregate, 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 ma ha insegnato ai ragazzi, prima i sette padri nostri, i sette glorie al Padre, e poi la prima decina del Santo Rosario, poi la prima corona del Santo Rosario, poi la seconda corona del Santo Rosario, poi Giovanni Paolo ha inserito i misteri luminosi del Santo Rosario, e infine i misteri dolorosi. Per cui, questi quattro misteri recitati tutti i giorni. Questo è per la salvezza dell'umanità, per la conversione delle anime, per la conversione dei poveri peccatori, e per la nostra conversione. Adesso saluto veramente a tutti gli amici, se vuoi dare un saluto, e poi passiamo invece al programma. Sì, ho visto che siete tantissimi. Vi ringrazio, e scusate per tutta la cosa di prima, ma è così. Allora, scrivete pure, così leggete tra di voi, io li leggerò con calma, ma siete veramente tantissimi, e l'argomento però è lungo, e quindi ringrazio tutti di essere qua in diretta con noi. Seguiteci pure, poi vi risponderò dopo, finita la diretta. Ma voi scrivete pure, perché mi piace poi rileggere quello che scrivete. Prima cosa, ho notato che questa sera, con la preghiera di San Michele Arcangelo, è successo di tutto. Non c'è partito l'iPad, siamo andati in diretta una prima volta, è finita la diretta, siamo rientrati in diretta a capovolto in tutte le dimensioni, in tutte le direzioni. Adesso siamo comunque un po' stretti, perché non abbiamo il solito, come dire, strumento. Però, insomma, l'importante è trasmettere il pensiero. Ecco, Emanuele ha portato avanti benissimo la prima parte della diretta parlando del rosario. Io mi sposto leggermente, ma sempre rimanendo in chiave ovviamente cattolica, perché questo spazio è alla luce della gospa, all'interno del movimento. Questa sera, come da calendario, io approfondirò appunto il testo, X come xenofilia equa ed equilibrata. Noi parliamo proprio di questa immigrazione, ma guardandola da un aspetto cattolico, perché è quello che a noi interessa, no? Siamo tutti qui a voler approfondire la nostra vita sociale, ma proprio alla luce della gospa, alla luce di quelli che sono gli insegnamenti della Chiesa, perché poi Maria ci porta suo figlio Gesù. Suo figlio Gesù, insomma, lo ritroviamo all'interno della Chiesa. Cosa ci dice? Cosa ci insegna la Chiesa? Che gli immigrati sono innanzitutto persone e la prima accoglienza è un dovere, perché dare da mangiare agli affamati. Questo assolutamente è il punto di partenza ed è lecito e importante che ciò avvenga. Allo stesso tempo però accogliere vuol dire anche tutelare la popolazione già esistente, nel senso non si può affamare gli affamati se non c'è cibo da donare a questi affamati. O addirittura non si può affamare l'affamato togliendo dalla bocca del proprio figlio il pane quotidiano. Quindi questa accoglienza lecita va fatta comunque in un ambito di sopportabilità. Non si può dare di più a chi viene accolto, ma anche solo come attenzioni sociali. Noi abbiamo in Italia veramente tantissimi poveri che non hanno lo stesso supporto da parte delle istituzioni che viene dato giustamente agli immigrati. Quindi se un immigrato arriva qua e senza aver mai versato contributi, senza aver mai lavorato, eccetera, trova comunque sul suolo italiano una struttura che lo accoglie, giustamente, del cibo che viene dato per il sostentamento fisico, giustamente, ecco, allo stesso modo sarebbe importante che il povero italiano, la famiglia sfrattata che dorme in macchina, ecco, possa essere tutelata e seguita allo stesso modo. Perché non bisogna dar di più anche a me il tuo prossimo come te stesso. Ecco, lo stesso parametro va rivolto a chi viene accolto. E non solo, tutto questo serve per evitare le tensioni sociali. E sarebbe ancora meglio, ci insegnava Papa XVI e anche San Giovanni Paolo II, che la prima, come dire, va favorita assolutamente, vanno favorite tutte le condizioni che consentono di accrescere le proprie possibilità di lavoro nelle proprie zone di origine. Quindi tutta questa gioventù di forza lavoro che sta arrivando sulle nostre coste sarebbe opportuno aiutarle nel proprio territorio affinché non manchi la generazione in quel territorio e affinché qui non ci sia un surplus di presenza. Assolutamente. Visto che siamo tanti amici, l'argomento è veramente interessante. Vi chiedo un favore grande, amici. Condividete questa diretta. Invitate amici che andiamo a parlare con più persone perché sono argomenti che trattiamo solamente sul popolo della famiglia TV. Per cui aiutateci a diffondere la buona novella, a diffondere i messaggi, a diffondere il nostro programma. Attivate le notifiche, figurati, attivate le notifiche, condividete, invitate amici, insomma perché è giusto che le informazioni vengano date anche con una chiave diversa da quelle che la solita televisione ci propina nel loro modo appunto un po' ambivalente e non corretto. Ovviamente stiamo a salutare tutti gli amici che ci stanno seguendo, che sono veramente tantissimi. Grazie. Un bacio a tutti. Amore, non facciamo pasticci. Spettatori in diretta. Ecco, Manu ha toccato qualcosa. Non toccare più niente. Non tocchiamo più niente. Alberto Cerutti, adesso non vi vedrò più. Sara, Saroglie, Nicola, Ocello. Di Matteo, tutti gli amici. Tutti gli amici. Ora, andiamo ad analizzare cosa dice il Catechismo della Chiesa Cattolica nel punto 2241 riguardo agli immigrati. Quindi, le nazioni più ricche sono tenute ad accogliere nella misura possibile, quindi torniamo alla questione della misura possibile, lo straniero alla ricerca della sicurezza e delle risorse necessarie alla vita, che non gli è possibile trovare nel proprio paese di origine. I pubblici poteri, però, avranno cura che venga rispettato il diritto naturale che pone l'ospite sotto la protezione di coloro che lo accolgono. Quindi, chi accoglie un immigrato ha comunque dei doveri da rispettare, ma le autorità politiche, in vista del bene comune di cui sono responsabili, quindi c'è questa responsabilità, possono subordinare l'esercizio del diritto di immigrazione a diverse condizioni giuridiche. In particolare, al rispetto dei doveri dei migranti, ecco, questa parte qua viene sempre un po' sottovalutata dalle nostre istituzioni. Si parla sempre del dovere del nostro, del popolo italiano, nei confronti degli immigrati, ma non si parla mai adeguatamente dei doveri degli immigrati una volta arrivati sul nostro suolo. Ecco, anche questa è proprio accoglienza. Bisogna dire, formare l'altro affinché capisca dov'è e affinché accetti la realtà che lo accoglie. L'immigrato è tenuto a rispettare con riconoscenza, anche questo è importante, la riconoscenza che deve avere, perché se gli viene tesa una mano, ecco, questa mano deve essere poi, deve avere quell'aspetto di aiuto, ma anche riconosciuto dal migrante, con riconoscenza il patrimonio materiale e spirituale del paese che lo ospita e obbedire alle sue leggi e contribuire ai suoi oneri. Quindi l'immigrato è il dovere di riconoscenza, ma di accettazione della cultura e anche della fede. In questo caso siamo cristiani, quindi non dobbiamo togliere la nostra cristianità dal nostro territorio per far spazio ad altre realtà che possiamo si accogliere, ma non cancellando le nostre radici. Vai pure tu. Ecco, io volevo dire, giustamente Angela ha fatto una bellissima analisi, una ricerca di questo, ma qua abbiamo una ricetta ancora maggiormente studiata, o capiamo o moriamo. Questo è il nuovo libro intascabile proprio per essere usato a chi è che ci pone delle domande. Noi avremo questa fortuna, abbiamo il 29 di ottobre, abbiamo Mario Adinolfi, che viene il nostro presidente del Popolo della Famiglia alle ore 16, alle 15.30 all'accoglienza presso Sala Convegni, lì a Varesio, in Corso Dante, 14 a Torino. Per cui verrà il nostro presidente del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, giornalista, scrittore, la quale proprio in questo appunto, in questa parte della X, ci dà cinque spunti. Dice, questa è l'emergenza migratoria per noi una grande occasione per ridefinire la nostra identità. Diciamo sempre di essere pronti ad accogliere, ma l'immigrato deve integrarsi con i nostri valori. Quali sono questi valori? Io sottoporrei a chiunque voglia stabilirsi in Italia un semplice questionario in cinque domande. E questa qua è la nostra linea politica. 1. Sei disposto ad apprendere l'italiano e a rispettare le leggi e i costumi del nostro paese, considerandoli sempre preponderanti rispetti a quello del tuo paese di provenienza? 2. Sei consapevole che l'Italia è un paese di cultura cristiana dove la quasi totalità dei cittadini è battezzata dalla Chiesa Cattolica? 3. Sei consapevole che simboli cristiani sono esposti nelle aule scolastiche, nei tribunali, negli ospedali e in molti altri luoghi pubblici e presterai il dovuto rispetto a quei simboli? 4. Dichiara fin da subito di rinunciare al proselitismo se aderisci ai dettami di un'altra religione? 5. Dichiari fin da subito di rispettare il ruolo e la libertà della donna, paritari a quella dell'uomo, evitando qualsiasi forma di discriminazione che derivi dai costumi o dalle leggi del tuo paese di provenienza, incompatibili con la nostra Costituzione? Pensate in 5 punti che è un dossier di domanda per l'integrazione di immigrati, c'è già un programma, perché la nostra accoglienza è aperta, le porte di casa nostra sono aperte, ma in base a quello che ha detto Angela per il compendio della Chiesa Cattolica, per cui un'immigrazione, un ingresso equilibrato, sostenibile, non sfruttato, non per far arricchire quattro cooperative rosse, i soliti quattro furbetti del quartiere, come abbiamo visto Mafia Capitale, abbiamo visto cosa avviene, per cui io credo che noi del PDF non siamo aperti, siamo più che aperti, ma con il senso e con la logica, questo è un attimino quello che deve avvenire. Certo, ma in virtù di questo io abitiamo a Torino, quindi voglio raccontarvi una cosa che purtroppo è successa proprio pochi giorni fa, a Torino abbiamo una grande zona, Portapalazzo, grandi mercati generali, scusa, il mercato di Portapalazzo, e abbiamo lì dietro una zona che si chiama Albalun, dove c'è appunto questa compravendita e ci sono tantissimi immigrati a cui noi diamo ospitalità per tornare al punto del riconoscere comunque quel che stiamo facendo, che viene sottovalutato, è tutto dovuto a quanto pare. Purtroppo un ragazzo nigeriano, pochi giorni fa, Albalun, ha ucciso un italiano per una lite. Io adesso non ho approfondito i motivi. Quello che riporta il giornale è semplicemente che il ragazzo di colore ha visto che li sono passati appena con i piedi sul lenzuolo che aveva per terra dove metteva la sua roba, ma che il testimone, l'amico che ha subito soccorso a quest'altro, ha detto che noi non ci siamo neanche accorti e questo ragazzo di colore cosa ha fatto? Allora, appunto, questo ragazzo di colore per questo motivo futile in fondo, cosa ha fatto? Ha ucciso questo povero 52enne italiano. Ora, a parte l'omicidio in sé che è già grave, a parte i futili motivi che è già un altro punto grave, a parte che quel ragazzo nigeriano è in terra straniera, quindi doveva almeno ringraziare, insomma, di essere qua, ok? Ma come è avvenuto questo omicidio? Per sgozzamento. Ora, io dico, due punti. A una persona occidentale, anche in un impeto di ira, mai verrebbe in mente di uccidere un'altra persona per sgozzamento. Ecco, lo sgozzamento comunque è un riferimento comunque di, ci viene insegnato, no? Che è punire l'infedele, quindi istintivamente se si deve uccidere qualcuno, si uccide da questi immigrati in questo modo, per sgozzamento, proprio si sminuisce l'altro essere, anzi si punisce, no? E allo stesso tempo cosa capita? Io ho sempre visto da bambina che venivano sgozzati gli animali, i conigli, le galline, quindi non si riconosce quell'altro essere che si sgozza in quanto tale. Non viene riconosciuto essere, perché un essere che viene sgozzato viene riconosciuto come un animale. Tant'è che poi, dopo la fatica dello sgozzamento, questo ragazzo nigeriano che cosa ha fatto? Prima ha cercato di colpire ancora l'amico, solo che l'amico aveva un giubbotto e non è riuscito a penetrarlo nello stomaco, poi l'amico si è messo subito a soccorrere quello che aveva la gola tagliata, sgozzato praticamente, e poi cosa ha fatto? Ecco, in tutta tranquillità e con tutta freddezza questo ragazzo nigeriano, appunto, proprio perché non aveva ucciso un uomo, ma aveva ucciso un infedele, nonché probabilmente animale, i suoi occhi, in tutta tranquillità si fumava la sigaretta e tant'è che non si è scomposto nemmeno quando sono arrivate le forze dell'ordine. Ora, in questa situazione nazionale, adesso ho raccontato un episodio, perché poi viene tutto minimizzato, il fatto di cronaca viene concentrato tutto sulla questione, oddio, oddio, adesso magari dicono qualcosa che va contro lo iusoli, perché adesso dobbiamo far passare lo iusoli, allora cosa facciamo? Minimizziamo e non parliamo piuttosto della vittima. Quella povera vittima, scusami amore, che a 52 anni aveva vissuto fino a quel momento le fatiche di ognuno di noi, i sogni di ognuno di noi, le delusioni, cioè una vita, una vita spezzata per un non nulla, da chi invece dovrebbe ringraziare dell'aiuto che viene dato da questa nazione che lo accoglie. Ora, io dico, preghiamo per la vittima, concentriamoci ogni tanto anche sulle vittime, e diciamo, non accusiamo chi magari evidenzia determinate cose che purtroppo sono dati oggettivi in realtà, perché come io ho sempre detto, se alcune cose non si possono dire, tantomeno si possono compiere. Siamo effettivamente in una colonizzazione dell'Italia e dell'Europa, e veniamo addirittura uccisi da chi aiutiamo, in un aiuto, finisco, che non è più sostenibile in quanto siamo un popolo ridotto alla fame, un popolo affamato, che non può in questo caso, in questo momento, aiutare chi richiede aiuto, perché non abbiamo la forza economica. Se avessimo un'equità sociale, una società in cui lo Stato si prenderebbe cura del popolo allo stesso modo di come si prende cura in difesa fisica e morale dello straniero, lo facesse allo stesso modo per il proprio popolo, ecco, allora si potrebbe tranquillamente procedere in questa direzione. Vai pure tu, scusate. Comunque, noi, come abbiamo detto, siamo per l'accoglienza, un'accoglienza sostenibile. Il discorso è un altro, cara Angelina. Il discorso è che noi ancora siamo fortunati, perché qua in Italia, noi siamo ancora stati risparmiati dall'accanimento del terrorismo islamico. E qua, sempre su questo libro tascabile che ripresento, o capiamo o moriamo, il nostro Presidente, siccome è un patito di numeri, ci dà delle indicazioni molto, molto forti. Pensate che dal 2001, per cui dal primo attacco alle Torri Gemelle, in Europa e nel mondo intero si sono avuti 60 attacchi di terrorismo islamico, per cui in meno di 16 anni abbiamo avuto più di 5.500 morti. Pensate che invece in 20 anni di terrorismo rosso, nero, europeo, per cui si parla delle brigate rosse, del terrorismo in Germania, in Irlanda, abbiamo avuto meno di 1.000 morti. Allora, capite un attimino che qua la situazione per il momento, e sembriamo che siamo su un'isola felice, quali saranno i motivi? Abbiamo un'intelligence veramente all'avanguardia? Sarà un'isola felice per poter passare, progettare, programmare e poi far partire verso altri punti dell'Europa? Questi misteri sicuramente li vivremo, li vedremo. In ogni caso, come dice Mario Di Nolfi, o capiamo o moriamo, questo è quello che noi dobbiamo fare. Da qua a 3-4 mesi, ormai siamo quasi arrivati alla fine della legislatura, il 24, passerà alla Camera probabilmente Rosatellum, a dicembre si scioglieranno le Camere, per cui si darà poi l'inizio alla raccolta delle firme, si andrà a votare o per fine marzo o giù di lì. E a queste politiche noi dobbiamo entrarci, assolutamente, perché come dice sempre il nostro caro Avvocato Gianfranco Amato, ormai in Parlamento si decide come nasci, come vivi e come muori, per cui eutanasia, sei uomo, sei donna, decidi tu, oppure procreazione assistita in questa maniera. Voglio però ancora leggere una parte, perché siccome siamo alla luce della Gospa e abbiamo visto che in questo momento cosa è avvenuto, ricordiamoci nel 1500, nel 1500, aspettate che ve lo dico, vi ricordate la battaglia di Lepanto. La battaglia di Lepanto praticamente è stata vinta da navi cattoliche e per cui è stato poi intitolato proprio il 7 ottobre la festa della Madonna del Rosario. Abbiamo visto in Polonia questo popolo non per fermare l'immigrazione normale, logica, sensata che un popolo ha diritto di autodeterminarsi in un altro posto, ma di fermare un'invasione scelerata, di fermare un'islamizzazione della nostra civiltà europea. Anche perché comunque i nostri politici trattano questa accoglienza con la confidenza di chi pensa di sapere e di conoscere. Magdi Cristian Allà ci spiega molto bene qual è la realtà, quindi questa confidenza che i nostri politici hanno in merito a questa questione è comunque una confidenza strumentalizzata e utilizzata da altri. Dalle lobby potenti, abbiamo visto chi ha il servizio che ci viene a parlare nelle chiese di un'immigrazione ordinata, bella, che abbiamo bisogno perché mancano 6 milioni di cittadini italiani, chi è che ci parla? La Emma Bonino. Emma Bonino che è stata quella che ha causato la morte di 6 milioni di persone che mancano oggi all'appello. Allora, quando il palinsesto nazionale, quando tutte le spinte giornalistiche, Repubblica, tutti i mass media, la RAI 1, RAI 2, Canale 5, tutti sono spinti su questa direzione e l'unico che non va controcorrente ma che dice la verità è la croce. C'è qualche piccola notizia sulla bussola quotidiana, avvenire è meglio che abbiamo quasi smesso di leggerlo, la verità lascia il tempo che trova, tutto il resto, cari amici, è in mano a delle lobby potente. Io vi voglio solo leggere l'ultima lettera di Lucia, di Suor Lucia, di Suor Lucia dos Santos per quanto riguarda il Santo Rosario. Fratelli e sorelle, a me cari è la Madonna stessa che ci esorta a recitare il suo rosario con più fede, con più fermore, contemplando i misteri della gioia, della passione, della gloria e del figlio suo, che volle associarlo nel mistero salvifico della nostra redenzione. Per questo vi esorto a rileggere e a meditare il messaggio che la Madonna ci divolse parlando a noi della potenza ed efficacia che il Santo Rosario ha sempre sul cuore di Dio e su quello del figlio suo. Ecco perché la Madonna stessa, nelle sue apparizioni, prende parte alla recita del rosario, come nella grotta di Lourdes con Santa Bernadette, e a Fatima con me, Francesco e Giacinta, e io aggiungo e a Meggiugorie, con Maria, Ivan, Ivanka, Visca, Miriana e Iacov. Ed era durante il rosario che la Vergine usciva da una nube e si posava sull'alce, avvolgendoci nella sua luce. Anch'io da quel momento, anch'io da qui, dal monastero di Coimbra, mi unirò a tutti voi per una più forte ed un'universale crociata di preghiera. Però ricordate che non sono io solo ad unirmi a voi, è tutto il paradiso che si unisce all'armonia della vostra corona, e sono tutte le anime del Purgatorio che si uniscono all'eco della vostra supplica. E quando il rosario scorre nelle mani, che angeli e santi si uniscono a voi. Per questo vi esorto a recitarlo con profondo raccoglimento, con fede, meditando con religiosa pietà il significato dei suoi misteri. Vi esorto pure a non biascicare le Ave Marie, né dirlo a tardanotte quando siete oppressi della fatica del giorno. Ricordate che per il vostro angelo custode è l'ora più bella della vostra vita, come pure per la Madonna unita alla vostra preghiera. Recitatelo privatamente o in comunità, in casa o fuori, in chiesa o per le strade. E se non avete la corona nell'anello dei suoi piccoli grani, recitatelo unendovi ai cori degli angeli, come si usava un giorno. Recitatelo con semplicità di cuore, seguendo passo passo il cammino della Madonna con il figlio suo. Recitatelo sempre con viva fede, per chi nasce e per chi soffre, per chi lavora, per chi muore. Recitatelo uniti a tutti i giusti della terra e a tutte le comunità mariane, ma soprattutto con la semplicità dei piccoli, la cui voce ci unisce a quella degli angeli. Mai come oggi il mondo ha bisogno del vostro rosario. Ripeto, mai come oggi il mondo ha bisogno del vostro rosario. Ricordate che sulla terra vi sono coscienze, prive della luce, prive della fede, peccatori da convertire, atei da strappare a Satana, infelici da soccorrere, giovani disoccupate, famiglie nel bivio morale, anime da strappare all'inferno. È stata tante volte la recita di un solo rosario a placare lo sdegno della divina giustizia, ottenendo sul mondo la misericordia divina e a salvare tante anime. Solo così affretterete l'ora del trionfo del cuore immacolato della Madonna sul mondo. Vi abbraccio tutti con affetto, Suor Lucia dos Santos. Ecco, allora con questa bellissima lettura che ha fatto mio marito su questa lettera di Suor Lucia dos Santos, è proprio perché noi dobbiamo rimanere radicati in questa cristianità, che è proprio la nostra radice. Dobbiamo proprio capire, invece, non combattere l'Islam, ma vivere profondamente la nostra cristianità. Ora, verrà Maria di Nolfi, se siete di Torino o se avete amici a Torino, invitateli a partecipare il 29 ottobre alle ore 16, alle ore 15 e 30 ci sarà l'accoglienza presso la sala convegni lì a Vareseo, in corso d'ante 14 a Torino, perché veramente, come dice Maria di Nolfi in questo libro, o capiamo o moriamo, ma non solo moriamo fisicamente, moriamo proprio come cultura. E adesso vi dirò di più, il 13 ottobre la CS Aiuto alla Chiesa che soffre, nel rapporto che ha fatto da metà 2015 a metà 2017, ha utilizzato un titolo, oggi ho letto questo articolo sulla nuova bussola quotidiana, il titolo è Cristiani perseguitati, ma ora anche dimenticati, perché si è talmente concentrati su questa accoglienza all'Islam, che dei cristiani perseguitati non solo non se ne occupa più nessuno, ma si rimuove anche il problema. Allora, che cos'è la CF? È la Fondazione di Diritto Pontificio che dal 1947 sostiene la Chiesa con migliaia di progetti umanitari e pastorali attiva in 146 stati ed evidenzia quelli in cui i cristiani sono più duramente perseguitati. Quell'attualità c'è oggi, che questa è l'epoca forse in cui i cristiani sono più perseguitati e nessuno si occupa di questo. Passa tutto tacitamente sotto banco e per numero i cristiani sono le persone più minacciate e l'avversione al cristianesimo costituisce oggi la più grave dell'emergenza. Invece di che cosa parliamo? Parliamo dell'accoglienza all'Islam. Allora, occupiamoci, cari amici, di quei poveri cristiani che vengono ancora oggi nel silenzio di tutti i decapitati, sepolti vivi, come si dice, torturati, crocifissi. Crocifissi, addirittura. Non è al di là del mare? Esatto. Oltretutto la CF che cosa ha voluto ricordare con questo titolo? Che quali sono i motivi perché questi cristiani sono comunque così duramente provati? perché c'è la quasi totalità indifferenza dell'Occidente per le loro sorti. Questo Occidente che sta permettendo a tutto questo Islam di spostarsi nel nostro territorio vuole dimenticarsi completamente non solo delle proprie radici ma di quegli uomini, di quelle donne che oggi stanno versando il proprio sangue per rimanere fedeli a questa loro fede e nostra fede. Voi vi ricordate che in Germania la Merkel ha fatto arrivare tantissimi immigrati dalla Siria diplomati, laureati, tecnici e ha fatto la parte del leone che ha fatto entrare adesso poi ha chiuso. Noi invece non abbiamo fatto nessun tipo di programma abbiamo solo, grazie a Dio, perlomeno quello, salvato vite che altrimenti ne morivano di più nel mar Mediterraneo perché tanto è già un enorme cimitero ma invece di fare un altro tipo di lavoro. Adesso si è fatto un accordo, si è dato quattro soldi alle vedette in cui non fanno più partire per poco perché stanno scegliendo altre rotte e in ogni caso noi continuiamo a voler accogliere indistintamente con una logica, con una logica come dice Giovanni Paolo II come dice Benedetto Stegenerio, come dice Papa Francesco come la Chiesa, il Catechismo dice di accogliere l'immigrato prima anche di aiutare la casa sua aiutare la casa sua o comunque un'immigrazione sostenibile ma non solo. Nel momento in cui noi accogliamo nel nostro territorio un'altra cultura, un'altra fede come vorrebbero farci credere questi politicanti folli illudendosi, anzi no, loro non si illudono perché conoscono bene la realtà vorrebbero illudere noi con quella negna falsa che tutto andrà bene come fa ad andare tutto bene quando la realtà del mondo musulmano a casa loro, secondo questo articolo della nuova bussola quotidiana sull'analisi dalla metà del 2015 alla metà del 2017 su 13 paesi in cui i cristiani patiscono le più dure forme di oppressione talmente grave che su 13 paesi in 8 questa forma di oppressione viene definita classificata estrema come si fa a pensare che accogliendo questa cultura a noi sconosciuta ma ben delineata, ben definita da Magdi Cristiano Allam nella verità dei fatti quindi non è un voler colpevolizzare o cosa è voler renderci conto che la nostra cristianità va difesa perché soltanto difendendo la nostra cristianità si può accogliere l'altro rispettandosi e l'altro deve accettare la nostra fede non deve pensare che ci dovrà sgozzare come è successo al povero italiano al balun di Torino perché deve essere punito di un qualcosa che non esiste ora, se noi guardiamo l'Arabia Saudita in Arabia Saudita ci sono centinaia di migliaia di immigrati cattolici in prevalenza filippini che vengono privati delle loro case hanno la possibilità di pregare solo all'interno delle loro case ma anche all'interno delle loro case può fare irruzione la polizia religiosa e addirittura questi cattolici questi cristiani in Arabia Saudita subiscono abusi e violenze nei posti di lavoro ma i cristiani, i cattolici ad esempio della Corea del Nord in Corea del Nord non è minimamente permesso di avere nessuna forma di religione di fede e chi preferisce amare il proprio Dio ecco, viene recluso per tutta la vita o addirittura ucciso in questi penitenziari veramente che non sono come quelli italiani sono molto peggio in questi terribili campi di lavoro nel regime appunto si trovano i due terzi dei detenuti sono cristiani da 50.000 a 70.000 persone la loro unica colpa è quella di credere in Dio quindi in 9 stati su 13 cristiani vediamo come il movimento islamico sottomette con crudeltà i cristiani in Iraq e in Siria ad esempio abbiamo lo Stato islamico che ha costretto all'esilio centinaia di migliaia di persone in Egitto c'è il fondamentalismo religioso che sta crescendo sempre di più in Sudan c'è l'abbattimento delle chiese e di altri edifici di cristiani in Pakistan la minoranza cristiana sperimenta l'intolleranza perché nelle scuole coraniche viene diffusa la violenza governativa in particolare anche sulla blasfemia e in Nigeria e anche in tutta l'Africa c'è questa esasperazione dell'appartenenza etnica tutto questo per dire cosa? in casa nostra se non prendiamo una piena consapevolezza di riprendere in mano il rosario di consacrarci a Maria che ci porta Gesù di riappropriarci della nostra cultura cristiano, giudaico, cattolica ok della nostra fede se non mettiamo come priorità che chi entra a casa nostra deve accettare le nostre tradizioni deve accettare la nostra fede deve parlare la nostra lingua deve uniformarsi a questo Stato che può accogliere in misura tale che riesce a dare da mangiare a chi viene accolto ma anche chi vive nel proprio Stato ecco se non ci mettiamo in quest'ordine di idee i nostri politici attuali non stanno facendo tutto questo ecco se non capiamo se non capiamo moriamo bene allora adesso abbiamo sforato un attimino ma perché abbiamo avuto tutto il giramento iniziale volevo solo dire agli amici di Roma Roma e dintorni anzi a tutti gli amici che sono in collegamento in tutta l'Italia che il 5 novembre del 2017 nel decimo municipio di Ostia si vota e avremo come il nostro candidato per candidato presidente il decimo municipio Giovanni Fiori per cui se avete amici se avete conoscenti parenti vicino a Ostia diffondete da mettere la croce sul simbolo del popolo la famiglia e votare come presidente Giovanni Fiorio intanto solidarietà mia e di Angela e di tutto il mondo del popolo della famiglia a Don Ottorino Baronio che ha avuto un attacco perché è vicino al popolo della famiglia e in più domani il 19 chi vuole venire a vedere l'avvocato Gianfranco Amato io sarò con lui a Treviglio con Gianfranco Amato e Giuseppe Povia nell'infotainment in questo bellissimo non spettacolo informazione e canto cultura e canto e si è ripresa ormai da due giorni perché abbiamo fatto già due date la prima a Salerno la seconda a Latina domani saremo a Treviglio in provincia di Bergamo alle 20.45 dopo domani saremo a Cartigliano sempre alle 20.45 e il 21 a Santa Maria di Sala a Venezia e continuo a ricordare ancora diffondete per cortesia perché è molto importante ci saremo anche io e mio marito potremmo conoscerci ci saremo io e questo evento del nostro presidente Mario Adinolfi nel tour Occom o capiamo o moriamo ci saremo io Angela e ci sarà anche tutto il PDF Piemonte e per cui avrete modo di incontrare tutti gli altri militanti da Novara da Verbagna da Asti da Giaveno da Ciriè da Ivrea da Cuneo ci sarà veramente una grande festa e in questa sua presentazione capiremo veramente l'intelligenza e la lungimiranza proprio del nostro presidente Mario Adinolfi che ci spiegherà perché o capiamo o moriamo nella pagina Popolo della Famiglia Torino troverete questo evento quindi potrete andarvelo poi a guardare con calma a mettere parteciperò se verrete e divulgare ecco e siete veramente tutti invitati il 29 ottobre alle ore 16 presso la sala convegni via Varese in Corso Dante 14 a Torino saremo veramente felici di conoscervi di persona e chiudiamo senza sottovalutare la cosa più importante quello che Mario dirà perché è veramente tutto molto fondato tutto molto vero o capiamo o moriamo adesso voglio leggervi l'ultimo messaggio visto che siamo alla luce della gospa e dopodiché ci salutiamo è un messaggio del 2 dicembre del 2016 per cui recente cari figli il mio cuore materno piange mentre guardo quelli che fanno quello che fanno i miei figli i peccati si moltiplicano la purezza dell'anima è sempre meno importante mio figlio viene dimenticato e adorato sempre meno ed i miei figli vengono perseguitati perciò voi figli miei apostoli del mio amore invocate il nome di mio figlio con l'anima e con il cuore egli avrà per voi parole di luce egli si manifesta a voi spezza con voi il pane e vi dà parole d'amore affinché le trasformiate in opera di misericordia e siate così testimoni di verità perciò figli miei non abbiate paura permettete che mio figlio sia in voi egli si servirà di voi per prendersi cura delle anime ferite e convertire quelle perdute perciò figlioli miei tornate alla preghiera del rosario pregatelo con sentimenti di bontà di offerte di misericordia pregate non soltanto a parole ma con opere di misericordia pregate con amore verso tutti gli uomini mio figlio ha sublimato l'amore con il sacrificio perciò vivete con lui per avere forza e speranza per avere l'amore che è vita e che conduce alla vita eterna per mezzo dell'amore di Dio anch'io sono con voi e vi guiderò con un materno amore vi ringrazio adesso chiudiamo con un avea Maria che mi sembra il minimo per questa puntata veramente incastrata tra il programma che era di prassi che noi dobbiamo seguire e i messaggi della regina della pace messaggi che alla luce della gospa si sono rivelati come lo spirito santo entra noi non abbiamo preparato niente assieme lei da una parte io dall'altra questo è lo spirito santo che lavora allora ringraziamo a Maria nel nome del padre del figlio dello spirito santo ave o Maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen e che Dio ci benedica e ci custodisca e benedica tutti voi nel nome del padre e del figlio dello spirito santo amen grazie per essere stati con noi in questa diretta un po' movimentata bene bene buona serata spero di vedervi e tu tanti il 29 ottobre se no ci vediamo mercoledì prossimo a Dio piacendo è stato bello vedere ognuno di voi ciao amici perché adesso non possiamo salutare tutti gli amici perché qua sei impallato di nuovo colpa sua ciao ragazzi ciao